fabbrica di auto? si con tutti i pannelli solari wow ecologica nel fieno no 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 attento attento nasconditi nel fieno ok niente e non ho fatto caso vieni e dammi una mano dai io sono nascosto come? io sono nascosto non so di come cosa c'entrassi una volta questo stronzo scemo no no questo no questo scemo ecco perché non c'ho più le medicine cazzo inventario inventario vai in inventario inventario? ah ok vai se uno va in inventario fermalo a tutti no? tanto più se sono il quello che ha creato la sessione e invece? e invece no grande scelte vabbè ok l'ha messo in automatica posso scambiare così ehm avviso me lo conosce per uscire perchè ce le ho davanti anche c4 volendo adesso abbiamo un c4 io tra l'altro qualità 1 perlomeno il livello il suo è 1 un po' c'era 10 le molotov possiamo farle creano anche delle molotov fai anche tu qualche ne sfrutta anche tu il momento ah io no io l'ho fatto quello che devo fare ho tutto quello che mi serve ho questa mazza qua da 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 52 danno ah però non posso modificarla è quella il fatto quindi questa è ah non è modificabile Sì, è soltanto un uso Quando si rompe, si rompe Continuo a avvisarmi Ficcio davanti Dai Forza Scemo Ok, sono scemo io invece Posso pensare che questo gioco funzioni bene per me Lascia stare il mio amico Oh, ti è arrivato Ti è arrivato un coltello da dietro Ma cosa cazzo? Sì, c'è quello lì in fondo che è un po' Guarda questo Che posa artistica Ma ti sono dicendo questi? Oh, anzi due sono arrivati Vabbè, venite Facciamo punti Venite qua, venite qua Sto scaldandomi No Cazzo ma quanto c'ha di vita? 400 Perché se questo fa 50 colpo Ma l'ho chiuso Oh Ma l'ha bloccato? Come l'ha bloccato? Ancora non può bloccarlo Oh 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 Stiamo parlando Techland Oh E' arrivato un altro I colpi caricati sono a terra I colpi caricati non li può schivare Oh Non li può bloccare Non ci credo Non ci credo Non ci credo Sopravvivi Sopravvivi Non so se Qua si respawn forse Non so E' ancora morto quello là Sì 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 Via 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 Poi tra l'altro gira di merda Chi è? Dov'è? Io sono Tieni qua Scusi Dov'è? Crearli al massimo A te piacciono l'ente Sì L'ente pesanti Che devo vogliare Togli la botta Mostra anche a world Ti piacerebbero Ce la fanno male cane Aia Aia Che menazza Che menazza La testa Ma perché non riesco mai a baragli La cazzo Vedi che si magnetizzano Ma si magnetizzano Che vuol dire si magnetizzano Aia Fanno come dei magneti Ti si attaccano come dei magneti Stiamo affrontando mezza Mezza base qua Ho fatto il tempo tu? No Però forse respawno Forse respawno in tempo Forse respawno in tempo Dai 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 Su Sei fatta? Vai via Aia Che scena Che comica No Ok Già rifarlo? Così No 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 Ok Abbiamo finito Che è la gatta Che mi sta tirando Mi sei respawnato No se c'è qualcosa Lo mi hai fatto E sono altri Aia ma perché non riesco a prenderli C'è veramente bisogna giocare a Dark Souls Sono nel film Non è mai c'è una cassa qui dietro Difficile Vedrà che sei entrato Qui fuori Vieni fuori Vedrai la mia cucina Sì sì no stavo vorrei un attimo Perché? Ma te che voglio parlare una cosa Lo sapevo Lo sapevo E' lì sopra No Non sprecare le granate Non le hai Ho sentito Mordi carne Cazzo Non ci sono le orde qua Non c'è Non c'è il discorso delle orde Che possono venire Ma hai visto? No Cosa è che devo avere visto? Non lo vedi? Il corpo qua E' sponato uno zombie nel camion E' glicciato dentro ed è morto Sì infatti Mamma mia Poi questa stronzata Non sono riusciti a uscire praticamente Sono morti dentro Oh Trofei gratis Trofei gratis Troppo lo trofei questi Oh C'è ne trofei questi Bello bello Buono Ottimo Guarda quanti ce ne sono Guarda quanti ce ne sono E' entusiasta Oh ma Sai quanto sono difficili Trovare i trofei? Dammi qua A gratis poi Così Guarda Ne tiro un'altra Se ne spawnano ancora Ne tiro un'altra Mamma con piacere Guarda E' fare un baccano qua Contro Eh appunto Dai Spawnone altri qua sotto Si muoiono Si 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 vai Ho trovato il glitch Ragazzi Abbiamo trovato il glitch Adoro C'è Si Lo fai gratis Eh si ma Qualcuno nuovo C'è Ragazzi Se volete formare Venite Però sono un po' Glacciati Sì no Alcuni Non sono raggiungibili Al telefono Non sono raggiungibili Si si faccia Il messaggio dopo il pico Non lo sento Andiamo avanti Che siamo qui Fino un po' Posso fare altre granate Vediamo po' Vedete Posso lanciare delle mine Perché posso lanciare mine Le mine si piazzano Non si lanciano Vabbè Bello qua la resa Cavolo Qua fa 84 frame Fosse sempre così Si perché questa è una zona Isolata dal resto Sì ma comunque Se fosse così Cioè che sta lì a sprecare Molta potenza di calcolo Cosa che non si vede Aia Guarda che cacchio Vai Vai dietro Vai dietro Vai dietro Vai dietro Lo farò andare dietro Perché ho tirato una mina O lo farò andare sopra la mina Posso riprendere Non sono più riuscito a bloccarle Ma Ma la La cosa La parata Dipende La velocità della parata Dipende dall'arma Questa è una zona Questa è una zona Che stai facendo Il nuovo Lo sai Basta Per favore Che poi Io non sono un cheat Lo sai Non amo Che cazzo Ma mollami Questo Non si può rendere Sempre visibile L'interfaccia Che a un certo punto Faccio In che senso Con l'interfaccia Qualche volta Mi capita di Premere H Per la cura Invece non era Magari sul Ah sì Se vai Nelle impostazioni Se vai su Mi sembra HUD Puoi Mettere sempre Sì Sì Puoi mettere tutto Sì Oppure puoi premere 3 Finché non ti Ti mostra RPG Sopra Sono le impostazioni RPG Ok l'ora Dov'è che la vedo Ho messo in teoria Anche l'ora Dov'è che è 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 Se ne vada Se ne vada c'è Basta dai Per favore Fini qui a cent'anni Ma poi vedi che sono ormai Non La vacca Non si può più mungere E invece Andiamo avanti Per favore No c'è un'altra bombola Ah qua Ma l'avevi fatto anche qua Ma no Ma no mi direi che pure qua No questo l'avevo fatto Ma dai Questo buo è dentro nel corpo Eh ma sono irraggiungibili Irraggiungibili Solo uno Era raggiungibile Qua Loro perché probabilmente Hanno messo Sai cosa Qua hanno fatto una cagata Hanno messo il camion Praticamente dentro nel terreno No E quindi Nel spawnare Quelli lì sono spawnati Glit Dentro Sì Allora come si fa Nell'avanti Che non possiamo stare qua A cent'anni Dai Non ha senso Allora qui Per andare avanti È un po' Stessimo giocando io E te Al pena Ok ma stiamo Registrando Quindi Non ha senso E immaginiamo Ho visto che c'era un coso In giallo E poi qua Poi Non lo seco sopra Aspetta un attimo E andare di qua E di qua Quindi non sale Si sale No non sale De la fare Che vale fino là No Io non ho capito Dov'è che devo saltare Non lo devi fare da capo Non lo devi fare da capo Vengo su Il lampione Con la sinistra Si poteva saltare sotto Poi su quell'altro lampione Quello a destra Poi vai all'altra piattaforma O poi vieni dritto Nooo No non mi dire che Cosa vuoi tu? Cosa vuoi tu? Eh? Cosa vuoi? Vieni qua Bastardo C'è un altro Ah! Vieni qua! Cos'è che c'è un altro? Vedete non aspettare Vieni qua Vieni qua Mocca Mocca Andami qua Bello Assolutamente non Non worth Vabbè Ok Tiriamoci proprio intorno 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 Adesso mi salti Vieni qua Per un miracolo Di nuovo Vieni qua Vieni qua Scemo Cazzo E' comica Dove sei? Dove sei? Come ti ha preso? Riesci a tirare su Sì Sì Mi fa premere R Ok Da giù Che cuolo che gli ho fatto fai Vai via Eeeh Scemo 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 Adoro sto gioco Lasciali qua No Questi puoi scendere Scemo 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 Questa è la sua? Tu? Mi ha già matato una volta. Questa volta, farò bene. e lui pensava di averci ucciso proprio. La musica cosa c'entra qua? Anche tu è una musica... Sì, spettacolare qua. Sì, è una musica drammatica classica. Sì, sì, sì. La storia! 5 anni fa! Ha insegnato i tuoi figli! O eri figli! E tu eri parte di qualcosa di più grande. E tu dici a me che sei ancora vivo. Che sei più forte di altri, specialmente. Che sei più forte di quello che ho pensato. Anche non è così forte di me. Quali ultime parole? Che hai fatto a mia figlia? Che hai fatto a mia figlia? Che hai fatto a mia figlia? Aiden, sei vivo. Sì. Papà! Papà! noti che hai fatto a me che li to succoppi E trovi! Ero! Sì, si trasforma! via scappa scappa corri tu hai fatto già tre volte questo gioco sai tutto mi fai fare la figuraccia mi piace come la porta mi diceva spegni spegni apposta di aprire che bella l'ambientazione mi piace parecchio peccato che dobbiamo correre qualcosa di viola qui sotto cos'è quella roba? non si infatti lo visto anch'io cos'è qua? uno shader è andato male? si è un ombra è andata male no vabbè non dava niente invece vai te però abbiamo visto scurria 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 si è incastrata mamma mia un giz dopo l'altro non più volaci di lei non più volaci di lei ma che cazzo è diventato quello lì adesso è irrecuperabile non è più un uomo è un mezzo e mezzo è ancora un mezzo e mezzo? si ecco ho capito miracolo cosa cazzo sta in un bel ci stiamo divertendo anche per queste scurri scurri scappa 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 qua come ha fatto a recuperarci? ma che cazzo? imbroglione hai trovato i glitch per arrivare fino qua cosa mi hai già colpito? ma che cazzo c'ho uno di vita? vai 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 via 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 fammi curare va perché non c'ho margine se no se mi becca di nuovo sta beccando ah no invece sta beccando no mi ha beccato e mi ha lasciato con uno spulpo mi piace mi chiede la porta di faccia e adesso? ah ok ehi ehi spegni la porta spegni la porta ma come si fa? parli qua via 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 corre corre guardalo 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 è niente c'era dietro tipo a Hayden si è comportato in modo strano quando ha capito chi eravamo si è il padre è il nostro padre è il nostro figlio è il nostro figlio si è il figlio è il nostro figlio abbiamo opportunito quattro anni ah 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 dai 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 ah ah si è caduto? si ma poi mi c'è una storia ma vuoi andiamo ad andare avanti no a parte che eh come facciamo eh no devo andare avanti mi chiede per forza si 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 bello così si stiamo armando ma mi riparto da qua spero spero ah no ok ok è una sequenza simile mi vedo c'erano tipo 30 zombie solo lì che cazzo sotto? via 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 però che puoi scappare stai correndo vai tu vai tu vai tu salta vai 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 dai 5 punti è impassibile che se la faccia è impassibile che bella chiappotta ma lì stai a guardare ci sono i testi esattamente che legge era che mi sa mi sa mia mi sa No, non lo so Beh, se lei è vivente, deve essere... ...di acqua in un'acqua in un'altra città Cosa? Non credo che l'abbia sbagliato Cosa? Cosa stai dicendo? F***a! Wow, Gaja! Signo dei tempi, in un mondo che viviamo Cosa stai dicendo Ho bisogno di trovare Beh, prima, torniamoci fuori qui Non è sicuro che abbiamo capito di ridurre quella psico Ah, questa cosa qua Eh sì, ma guarda Con quella inclinazione lì E' assolutamente appoggiata Non serve a niente Infatti, è appoggiata lì così Va Non mi direi che sia caduto In realtà ho visto che con quei Quando ti appendi via a quelle cose lì Basta tenere premuto la barra spazio E fai in automatico O mi sbaglio? Credo di sì, io la premuto la stessa, no? Credo che basta tenere una premuta Spegni la porta, spegni la porta Spengo la porta Il militare, sono qui! Tra i loro iniziali No! Aiden! No! Uh, Earth to Aiden Man, tu sei solo un milione di chilometri Hai scopo di ciò che ci ha fatto? Sempre C'è l'acqua C'è l'acqua che voglio chiedere Waltz è numero 3 Tra la mia lista Tre E gli altri due E gli altri due? Non ti ricordo Non ti ricordo Non ti ricordo Non ti ricordo Lo prendo come un compliment Ci sono che lo faccio Non normalmente non hanno ricordi Mi piacciono Mi piacciono Mi piacciono Se si survive Mi hai dato un pugno alle palle Prima Sort of Mi piacciono 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 Il marcellaio è sopra Waltz Eh beh È È Sì Ma Sì È Sempre È Sì È È è un po' di te. Mi ha tricciato e i persone morti. Mi piacerebbe perdere. O se mi piace, quando lo vedete, sicuramente che hai una crossbow e una città di città. Non male. Ok, i'ma chiedere. Let's go. Fosse. Mi piace, ma devi andare. e invece no beh vedo qui il gioco crediti finiamo finito ciao a tutti la serie finisce qua quindi ci vediamo nelle prossime serie prossimo gioco no aspetta un attimo non dillo due volte cosa? c'è ancora la schermata nera no aspetta